Stefano De Martino sfida la battaglia epocale del sabato sera. Quanta strada ha percorso Stefano De Martino? L'enfant prodige della televisione italiana ha bruciato tutte le tappe e, nonostante la giovane età, è già un punto di riferimento per il pubblico. Per l'ex ballerino di Amici, nuovi progetti sono all'orizzonte e forse un colpo di scena epocale. Si prospetta per lui qualcosa di eccezionale, una sfida diretta contro colei che lo ha scoperto e lanciato nel mondo dello spettacolo. Stefano De Martino e Maria De Filippi avversari diretti in tv, chi avrebbe mai potuto prevederlo? Recentemente, Stefano ha firmato un ricco contratto che lo legherà per i prossimi anni a Viale Mazzini. Non solo gli è stata affidata la conduzione di Affari tuoi, Orfana di Amadeus, ma i Vertici Rai stanno pianificando una sorpresa, impiegare la giovane stella della tv anche il sabato sera. Questo per tentare di contrastare i programmi di punta della concorrenza su Canale 5, entrambi di Maria De Filippi, Tu si che vales e c'è posta per te. La notizia è partita da una dichiarazione di Marcello Ciannamea, direttore dell'intrattenimento Prime Time della Rai, il quale ha affermato che la presenza di De Martino il sabato sera potrebbe essere una soluzione vincente per essere competitivi, certo. Indubbiamente, se si pensa al varietà, Stefano è una delle punte di diamante su cui vorremmo investire. Quindi, l'ipotesi di vedere Stefano e Maria sfidarsi a colpi di Auditel non è affatto esclusa. Sarà interessante vedere come si evolverà questa situazione. L'allievo supererà la maestra? Finora, infatti, Maria ha sempre dominato la scena, battendo avversari come Carlo Conti con Tale e Quale Show e Emili Carlucci con Ballando con le stelle. Non a caso, Pier Silvio Berlusconi ha blindato la conduttrice di Amici, corteggiatissima da Discovery Channel. Come vivranno Stefano e Maria questa insolita sfida? Tra i due c'è sempre stato un rapporto di reciproca stima, e negli anni non sono mai mancate le dichiarazioni d'affetto. Stefano ha sempre riconosciuto che gran parte del suo successo lo deve proprio alla conduttrice di Canale 5. Sarà sicuramente una battaglia nel segno del fair play, con il pubblico che seguirà con grande interesse questo epico confronto televisivo.